Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, dai cantieri giubilari alle opere di rigenerazione urbana avviate coi fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si chiama Roma si trasforma ed è il nuovo portale voluto dal Campidoglio che attraverso una mappa digitale racconta i cantieri in corso in città, i lavori conclusi, quelli attivi e quelli futuri. Nella mappa digitale sono già inseriti 400 interventi riuniti anche per categorie, uno strumento per raccontare la trasformazione in atto e al tempo stesso garantire trasparenza sugli interventi.